Ma è vera questa cosa del baratto che volete proporre per gli artisti? Sì, è una cosa che anche in America fanno nei festival megagalattici. Noi, dato che abbiamo meno budget, cediamo alla gente, a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. Noi abbiamo dei gruppi di ragazzini di 18-20 anni che vengono da tutta Italia, sono i migliori tra 2000 gruppi e abbiamo bisogno di voi. Se volete ospitarli a casa vostra, può crescere un'amicizia, possono essere riscambiate le visite, può essere proprio un momento di socializzazione, un momento un po' buio, no? Della politica, della società, dell'economia. Insomma, si metterà in piedi questo baratto, questo baratto wave, per cui chi ha da darci qualcosa in cambio riceverà maglietta, riceverà un grazie grande così e riceverà anche il biglietto per entrare, qualora arrivasse dopo le 8 e mezzo, perché fino alle 8 e mezzo l'entrata è gratuita. Quindi venite, mangiate, si mangia benissimo, divertitevi, portate i bambini che faranno scuole di circo, giocolerie e tante altre cose, prendete il treno, perché abbiamo fatto, questa è una cosa grandissima, abbiamo preso con la TM di Arezzo, con Vindalini, con tutta la struttura, anche un treno che sarà assolutamente a disposizione, 500 posti per andare e poi soprattutto la notte per tornare, quando magari una birra... E non lo so? Non lo so, però sicuramente vai, sicuramente chi verrà una birra in più avrà l'occasione di mettersi seduto per la tranquillità sua e della famiglia che spera tornerà a casa tranquillo, ecco.